Le parole chiave che abbiamo identificato, sei, e che saranno poi rese notte nel documento che sarà consegnato durante l'expo al segretario generale delle Nazioni Unite, hanno tutte come comune denominatore indirettamente la formazione, cioè la conoscenza, la collaborazione, l'empowerment, la professionalità. Ma se sviluppiamo tutto questo, da qualunque aspetto lo guardiamo, poi qualche aspetto può essere più positivo, più facile, altri più compositi, perché dovremmo mettere dentro tanti aspetti, da quello dell'innovazione, da quello dell'utilizzo della tecnologia, da quello della forza, del volontariato, della solidarietà sociale. Però portano tutti allo stesso obiettivo, se faccio della buona formazione ho dei buoni risultati.